Ciao a tutti, io sono Iola e questo è il mio canale. Oggi fritto misto speciale, ma cominciamo col parlare di Chiara D'Alessandro e il suo ultimo mukbang dei Profitterol. Per chi se lo fosse perso, ve lo descrivo in poche semplici parole. Lei si è tutta a letto, che mangia un'intera vaschetta di Profitterol fingendo di non centrarsi la bocca e sporcandosi relativamente anche il viso, comunque con quel suo modo indisponente di fare le cose. Ebbene, io l'ho guardato solo parzialmente quel video perché ad un certo punto era così evidente che il tutto era esasperato al solo scopo di attirare a sé critiche e visualizzazioni. Penosa. Stesso discorso per le live del suo compagno Davide che fa video della durata media di circa 10 minuti, che poi è il tempo minimo per rendere il video monetizzabile. 10 minuti fatti di nulla praticamente, il nulla cosmico. Se non presi in giro, rivolte a lui ovviamente, saluti e domande di ogni sorta, lui rivolte a cui puntualmente non sa rispondere o non ricorda il senso o non ricorda l'argomento. Che al confronto lo smemorato di Collegno e un pivello stanno diventando davvero patetici entrambi. Ma cambiamo discorso, passiamo a un qualcosa di più carino. E cioè vorrei fare i complimenti e gli auguri a Marco Tito che si rimette in gioco con un nuovo lavoro, notizia data ieri sul suo canale. Bravissimo Marco, sei un bellissimo esempio di dinamicismo e di simpatia. Un complimento comunque anche ad Opale Raro per la simpatia con cui si esprime quando racconta le live, i video della coppia di Quarto Giaro. Non mi perdo un tuo video, Opale, ti mando un bacio grande e soprattutto brava perché sei un esempio positivo di donna che anche davanti alle difficoltà si è sempre rimboccata le maniche ed è andata avanti. Un bacio anche a te. Come Anna, d'altronde, del canale La Dama Nera che ha portato una ventata di normalità e simpatia su YouTube con i suoi video e i suoi simpatici siparetti con Mr. Jordan. Io penso che il senso di YouTube dovrebbe essere questo, divertimento, normalità, simpatia, passatempo. Basta con questi personaggi boriosi, privi di contenuti e anzi di cattivo esempio. Per questo video è tutto. Grazie per avermi seguito, un bacio, a presto. Ciao!